il meglio del rock on the road su Malvisi Ness va bene comunque bando alle cianci stessera abbiamo qui con noi un grandissimo gruppo sono i The Asma che stessera ci fanno sentire qualcosa dal vivo ci chiediamo intanto meglio dal vivo che dal morto i loro nomi magari abbiamo qui un cantante due chitarristi un percussionista presentiamoli velocissimo il cantante ci presenta tutti velocemente chi sono i gruppi allora io sono il cantante Simone Cassi c'è Michele Rivara alla chitarra stasera eccezionalmente Andrea dalla Giovanna alla chitarra di solito suona il basso in realtà qui c'è Lorenzo Boggiani che di solito suona le tastiere stasera non fa niente e poi c'è Marco dalla Giovanna alle percussioni so che fanno una specie di pop jazz acid new age lo sentiamo è una roba complicatissima lo sentiamo hanno studiato in cantina per tre giorni prima di venire qua ma hanno detto che sono bravi e noi li sentiamo dai forza coraggio forza ragazzi cominciamo con Soluzione insolubile che è una canzone scritta da noi e niente via cominciamo tacca banda in questa nebbia che mi avvolge la vita non trovo via ed uscito rimango solo e così non penso a questa vita a trovare un senso cerco forse la soluzione a un problema insolubile e il calcolo in questa occasione da un risultato impossibile sempre attaccato a un auricolare ascolto musica in continuazione quel che basta per non pensare per evitare una decisione cerco forse la soluzione un problema insolubile e il calcolo in questa occasione da un risultato impossibile allora forse è giunto il momento di trovare un po' di pace di ascoltare quello che sento e scoprire che in fondo mi piace cerco forse la soluzione a un problema insolubile e il calcolo in questa occasione da un risultato impossibile cerco forse la soluzione a un problema insolubile e il calcolo in questa occasione da un risultato impossibile